Sabato la partita con il Montecalcio in Coppa, si inaugura così la nuova stagione del Real Forio. Le chiedo innanzitutto che partita si aspetta e poi secondo lei se il fatto che il Montecalcio abbia già giocato la prima partita di Coppa, ha perso contro la Frattese, un po' può influire sulla partita? Mi aspetto un'ottima prestazione, mi aspetto una partita dove stiamo ancora nel calcio come si dice di agosto, quindi all'inizio con i caldi ancora alti perché oggi sta facendo ancora caldo. Credo che sarà una partita complicata, loro vorranno sicuramente ribaltare la sconfitta che hanno fatto con la Frattese, quindi recuperare per poi mettersi ancora in gioco per una Coppa che è fondamentale perché nelle squadre dove sono allestite, si sono allestite tantissime squadre, credo che è importante fare bene anche in Coppa. Quindi mi aspetto una partita difficile, complicata, ma tutte le gare saranno sullo stesso modo, non credo che ci sono partite facili. Coppa Italia è una competizione alla quale teniamo, non ci nascondiamo, vogliamo superare il turno, penso che abbiamo tutte le carte in regola per farlo, però saranno due gare molto difficili. La prima fuori casa a Montecalcio con la squadra di Maradona che fa sempre un bel gioco, le squadre giocano bene, ha voglia di primeggiare, quindi sarà una gara molto difficile. Quindi ci stiamo preparando al meglio per poter andare subito a fare una grande partita lì, sapendo le difficoltà che incontreremo. La Frattese non sarà da meno, una squadra attrezzata molto bene dalla società, una piazza importante, un pubblico importante, anche una storia importante come società e quest'anno vuole fare bene dopo aver vinto il campionato di promozione, ma ha attrezzato, ha rivoluzionato la squadra, quindi è una squadra che sicuramente potrà stare tra le prime posizioni e sarà ugualmente una gara difficile. Però, come ho già detto in passato, noi abbiamo attrezzato una rosa che se la può giocare con tutti, deve avere la consapevolezza che non deve mai mollare un centimetro, deve avere la fame e la voglia di ottenere risultati. Da sabato finalmente iniziano le gare ufficiali e inizieremo a misurarci con le altre squadre. Grazie.